Un imponente lavoro di recupero della cittadella di Ancona, reso possibile grazie alla convenzione tra Regione Marche e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I lavori coinvolgono il recupero della cortina muraria e di pulizia delle erbe infestanti per un'area interessata di circa 10.000 m2, un lavoro di restauro al momento completato per il 50% con deadline giugno 2025, non semplice anche per via di numerosi distacchi della struttura e ritrovamenti storici, come una gru dell'Ottocento che inevitabilmente sono passati sotto il baglio della sovrintendenza trattandosi di una cortina muraria risalente alla metà del Cinquecento. Abbiamo scoperto una serie di conicoli e di camere ipogei che mergono grandissima attenzione. Diciamo che al di sotto della cittadella c'è un'altra città. È chiaro che è di interesse della Regione Marche e del Comune di Ancona valorizzare questo importante angolo della città, questa importante rocca che sovrasta Ancona, sovrasta il porto e quindi è importante da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista architettonico e anche da un punto di vista turistico, perché tutti i nostri interventi sono mirati, così insegna il Presidente Acquaroli, a moltiplicare gli investimenti in economia del territorio. Quello che stiamo facendo partendo da Ancona, ma per raggiungere tutte le Marche, da Gabice, da Urbino fino ad arrivare a San Benedetto del Tronto e a Dascoli Piceno. Questione fondi, se per questo primo finanziamento, infatti, che riguarda il consolidamento del Bastione Gregoriano e il rifacimento di porzione del muro e desedra antistante l'edificio A del complesso, attualmente sede del segretariato adriatico ionico, si parla di 3 milioni di euro, si può già dire che c'è in essere un secondo finanziamento di 3 milioni e 8 per ripulire e ripristinare l'edificio attiguo. Sulla destinazione d'uso bisognerà attendere di concludere i lavori che si svolgeranno anche in questo caso per stralci. I nuovi stralci di finanziamento che abbiamo previsto da destinare alla Rocca prevedono la riqualificazione e la rigenerazione di quell'aria, proprio dell'edificio B, che è in condizioni di forte dissesto ed è evidente che recuperando anche gli edifici all'interno della cittadella potremmo dare una destinazione culturale alla struttura, i 12 mila metri quadrati rappresentati e circondati dalle mura della cittadella, ma anche con una visione internazionale. Non a caso qui vi è il segretariato della strategia adriatico ionica.